Il secondo tempo è cominciato Lo Sparta-Praga ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa Viene assegnato il tiro dalla bandierina Libera al momento giusto Occasione da rete Fuori di poco sfortunati qui Ha provato ma niente di fatto, non si darà per vinto Fabio, ci riproverà Bel pallone L'idea era buona ma non è riuscito a trovare il compagno giusto Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio Continua ad avanzare verso l'aria Occhio al cross Bel intervento di consiglio Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali Intercetta il passaggio pericolo Manas Troveranno le forze per ribaltare questo risultato negativo? Occhio alla conclusione L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare Non aveva scelta in questa occasione Vediamo se può capitalizzare Può cercare il taglio in mezzo Lo mette in mezzo E va La foglie della porta Ha messo la prova al portiere Qui bisogna lodare l'estremo difensore Non si è fatto superare E trova il compagno E l'arbitro dice che è ancora calcio d'angolo Ecco il giro La toglie dalla porta E' proprio questo che devono fare Devono insistere E in questo momento devono prendere dei rischi E' necessario Assolutamente Se ne va Costa Riesce a rubargli il pallone Prova la soluzione in fascia Viera Lo Sparta Praga Non riesce a interrompere il possesso palla degli avversari Sta subendo troppo E ora deve colpisce il pallone Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore Una parata eccezionale Una parata eccezionale Ha avuto un riflesso colino Che in pochi si aspettavano Forse nemmeno i suoi compagni Da lì può segnare Conclusione Conclusione sul fondo Sì valeva la pena provarci Anche se segnare da lì non è semplice Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie. 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 Mares. E passa. Cross verso il centro dell'area. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Inissa con le mani. Grazie. Sicuri in fase di palleggio. Prova la verticalizzazione. Prova a tirare. E qui la squadra riesce a conquistare un altro calcio d'angolo. Va di testa. Lo spartatrato è riuscito a toreggiare. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a inzaccare. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. perfetta parità dunque. Ormai l'allenatore starà già pensando all'eventualità dei tempi supplementari. Sarà interessante vedere se apporterà dei cambiamenti tattici. ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Palla in avanti verso il compagno. Ibraimovic. Pallone filtrante a superare la difesa. Riesce a liberare. Cerca la Voto. Che parata! Non un intervento di routine. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Sembrano molto sicuri. Hanno già segnato in questo modo. Buona la sua progressione palla a piede. La squadra ora deve salire se vogliono provare a giocarsi quest'ultima azione. Cerca di servire il compagno in avanti. Ora deve duellare con il portiere. Prova la conclusione. Va rapido sulla respinta. La gioca in profondità. Arriva il fischio dell'arbitro e con questo equilibrio si deve per forza andare in tempi supplementari. È stata una partita combattuta. Tutto sommato il pari mi sembra il risultato più giusto. Parità dopo 90 minuti si va ai supplementari. Adesso dovremo vedere soprattutto chi ha più energie residue. Grazie. 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 E comincia il primo tempo supplementare. Siamo allo stallo assoluto. Parità perfetta tra le due squadre. Vedremo chi avrà la meglio. Non c'era spazio. C'è spazio, occhio! Può colpire! La palla va sul palo! La mette in avanti. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Cercano un'azione veloce. Ecco Mares. Grande occasione. Colpisce il pallone. Grande occasione sprecata. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica. Difficilmente vedremo tante occasioni. Vuole la profondità. Cerca lo spunto. Grande intervento. Vale come un gol. La larga è gioco con pallone a sinistra. Una buona palla. Spazio per cercare il barco. Cercativo. Cercativo. Aiai, stanno attento nuovamente. Eh, ma doveva metterla dentro qui. In colnata. Ha avuto un'ottima occasione la sprecata. c'è un bel pallone. Occhio. Occhio. Bella palla. Ecco il tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Si è avventato bene sulla palla ma non è riuscito a concludere come avrebbe dovuto. C'è il fisco dell'arbitro. Si chiude dunque.